11 settembre 1969. Comincia l'autunno caldo. L'Italia è attraversata da un'ondata di proteste e lotte sindacali e operaie favorita dal clima politico del 68. La mobilitazione inizia in coincidenza con la scadenza triennale dei contratti di lavoro, in particolare quello dei metalmeccanici. Gli operai delle grandi fabbriche, che si battono per l'adeguamento dei salari, trovano degli alleati negli studenti, che hanno dato vita ad agitazioni con cui reclamano il diritto allo studio per tutti gli strati sociali. L'autunno caldo rappresenta il brodo di cultura di nuovi gruppi e movimenti politici extraparlamentari, alcuni dei quali sfoceranno nel terrorismo e nella lotta armata.